...quanto grazie, non sempre volessi rialzare, comunque seguiamo l'episodio del rigore con Platini che passa e segna, le due squadre sono con l'1-1 Mauro, poi Bonini, poi Platini, ha anticipato, tira, è reso, Platini, sacco lavoro Fuori gioco ancora, fallo ancora contro la Juve, è fallo, fallo contro la Juve, ci spazio più spagnolamento del segnalino Io non so per cosa, chiaramente, è un forse gioco pericoloso, ma è un forse fuori gioco, io non so perché Ma il segnalino è rimasto fermo nella sua posizione dal primo momento La Juventus ha finito di solo un uomo rotto, fa tutto l'esperienza La Juventus vince la toppa intercontinentale E adesso vanno i trovatori, il primo è andato ad abbracciare il francese che non ha sbagliato il giro dagli unici metri